Si riaprono le porte dell'amministrazione comunale, questa volta per le maestre della scuola dell'infanzia, alle quali è rivolto il nuovo bando pubblicato da Palazzo San Giacomo. Stamane la firma della convenzione con il Formez, che gestirà per la terza volta le fasi di selezione del personale con procedure che garantiscono massima celerità e trasparenza. I posti a concorso sono 370, 182 maestre e 188 istruttori socioeducativi, il 50% dei quali riservato con procedure speciale agli insegnanti in servizio a tempo determinato presso il Comune di Napoli. Per questi ultimi già da oggi il bando sarà pubblicato sul sito Ripam e su quello istituzionale del Comune. Parte la procedura per la selezione trasparente e pubblica delle 370 maestre, questo è un risultato storico che abbiamo fortemente perseguito per la scuola pubblica, per i nostri figli, per Napoli e per dare anche prospettive di lavoro a tante persone. Il 50% di questi 370 sono destinati a interni, il 50% a esterni. L'abbiamo fatto in collaborazione col Formez per garantire nel modo più efficace e trasparente possibile la selezione delle future maestre della città di Napoli. Entro qualche settimana partirà anche il concorso per l'accesso dall'esterno, aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti di legge, che avrà procedure più articolate e sarà preceduto da test attitudinali. Dal 1997 ad oggi sono più di mille i dipendenti selezionati e formati dal Formez ed inseriti a pieno regime negli organici dell'ente. In meno di due mesi si concluderà il concorso per il personale già in servizio, mentre le altre procedure dovrebbero terminare entro il primo semestre 2015.